Ciao ragazzi del Senses Garage, benvenuti al secondo video. Cominciamo con i video pratici. Ovviamente prima di partire col fresino si dobbiamo studiare dietro un attimo le cose, quindi la prima cosa da fare è prendere giù l'esatta posizione delle luci di scarico e delle luci di emissione e anche di scarico e come si fa? Si taglia un pezzo di carta a misura, si infila dentro nel cilindro raso, si fissa con lo scotch e poi con il dito sporco con la matita, come si faceva una volta a scuola, si preme sugli angoli delle luci e vedrete che mano a mano rimane impresso il segno sulla carta, come fosse una carta a carbone, dell'esatta dimensione della larghezza, dell'altezza, dove si trovano. Se questo foglio di carta esattamente è raso a livello della testa avremo anche l'altezza, l'altezza della luce e tutto quanto. Questo lo facciamo sia sopra che sotto per avere la dimensione della lunghezza del cilindro dove abbiamo accorciato. Fatto ciò si estrae, io l'ho già fatto precedentemente per vedere se funzionava, si apre il nostro rotolino e magicamente, adesso lo vediamo un po' sfoccato perché magicamente avremo l'esatta posizione delle luci di scarico, che verranno ripassate a mano, con la matita e avremo la posizione reale e poi con un righello, con l'ispirazione che vedremo, prenderemo ispirazione da altri modelli di luci da competizione, andremo ad allargare queste luci, allungarle tenendo presente che in alcuni passaggi come qui forse, sembra che sia qua e qua c'è il traversino, c'è il fermo del pistone. Ok, per adesso questo è quanto si vuole vedere. Dopo aver messo in asse, cioè con una riga, con una squadra come si faceva a scuola in educazione tecnica, qui si vede chiaramente dove sono le proporzioni delle altezze delle luci, questo cilindro era stato fatto a mano, a occhio, ed era già stato allargato come detto, vediamo i disallineamenti e cose varie che sono stati fatti. Da questo punto in poi si può decidere come allungare, intervenire, allargare, alzare le luci. Questi sono i punti dove passano i fermi delle fasce, e questo è il punto di inizio, dove si potrà decidere di intervenire con il fresino, del fresino del dentista. Ci vediamo al prossimo video, iscrivetevi al canale, mettete un like e seguiteci, mi raccomando, sosteneteci, ciao a presto, dal posto Senses Garage.